Ciao a tutti da Gianni Samannà, Amiga 1200, sapete cosa è? Entriamo dentro, subito, e all'opera. Questa è l'Amiga 1200, eccezionale veramente, dopo 18 anni ancora funzionante, funzionante, con un hard disk da 4 giga, cd rumo player, mouse e monitor. Il suo alimentatore, joystick, 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 dischetti, cd rum, dischetti, 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 dischetti. Un saluto a tutti da Gianni Samannà, con l'Amiga 1200, e ci sentiamo! Mua! Ciao! Ciao!